Sarebbe facile anche guardando il calendario fare ironie, scherzare. Oggi è il 5 di luglio, il 5 di giugno Virginia Raggi aveva dichiarato di voler subito annunciare prima ancora del ballottaggio i componenti della sua giunta. È passato un mese, è diventato sindaco, non l'ha ancora fatto, ma io di questo non gioisco. Ne ci faccio battute, ne rido, perché confido nel fatto che chi ha avuto la responsabilità di guidare quella città, di guidare la nostra capitale, possa al più in fretta possibile assolvere a questa incommenza fondamentale per riuscire a governare. E perché lo faccio? Lo faccio perché credo che il Movimento 5 Stelle abbia la capacità di rimanere come ultima ancora di fiducia nella politica per tantissimi cittadini italiani e non voglio vedere quell'ancora delusa o disillusa. Voglio poterli misurare coloro che hanno avuto la responsabilità di guidare Roma per i prossimi 5 anni sulla base dei loro risultati, con senso critico ma non demonizzandolo, perché abbiamo fiducia, abbiamo bisogno di fiducia nei confronti delle istituzioni. Quindi il caos della prima ora, le tante difficoltà ma confido nel fatto che vengano superate.